Non c'è niente su come annullare un campo di forza antimagia. E se dovrò riconquistare la città da sola, mi serve ben altro per andare avanti. Capito. Bene, allora ti ho portato Stregoneria Antica, volume secondo. Già letto. Ok. Che ne dici di L'arte delle maledizioni ed elementi di magia? Bene. Grazie. Come sta, Stefan? Sta bene. E con lui ci parli spesso? Un paio di volte a settimana. Oh! Ah! Non vorrei sembrarti indiscreto, Caroline. Ti disturba qualcosa? Non ci ha nemmeno salutati. Damon e Bonnie sono morti e lui se n'è andato. Niente telefonate e niente e-mail. Così è sparito nel nulla. Non lo sento da mesi. Mi ero persino convinta che fosse in qualche remota regione in montagna e non potesse ricevere le mie chiamate. O forse non ti vuole disturbare per qualche mezzo indizio che poi finisce nel nulla. Sì, o forse devo solo dimenticarlo. Grazie dei libri. Noi! Noi! Grazie a tutti.